buonasera ragazzi eccomi qua eccomi qua con un bellissimo ambo secco centrato al sesto colpo di gioco qui non parliamo di ambetti perché sapete benissimo che io non amo e ai miei clienti non faccio giocare l'ambetto ma bensì l'ambo secco qualcuno dirà ma perché poi fai giocare l'ambo in terzina perché so benissimo che il terno è molto molto difficile a centrare non è come l'ambo secco che chi è bravo a fare previsioni dovrebbe centrare non farci come se ragazzi come se qualcuno vi dice giocate l'ambata ma l'ambata c'è bisogno di abbonarsi a qualcuno per giocare l'ambata giocatela voi che secondo me riuscite a centrarla più voi che chi vi propone di giocare l'ambata ok vi faccio vedere anche la previsione giocata in in terzina vi faccio vedere subito come vedete questo cliente ha giocato sia l'ambo secco sia la terzina per ambo eterno logicamente il terno non è uscito se altrimenti a quest'ora staremmo fa facendo già 54 mila video perché se qualcuno fa un video ogni ora quando vince l'ambetto se io riesco a vincere il terno devo fare un video ogni 10 minuti ok bene poi vediamo anche un'altra vincita da un metodo che ho regalato su youtube ok che qualcuno non ha messo nel dimenticatoio mentre tanti tanti di voi hanno messo nel dimenticatoio ma non chiedetemi di ridarvi il metodo chi l'ha copiato bene chi non l'ha copiato pazienza mi dispiace ma quando regalo io i metodi o li seguite oppure poi io ripeto li rim li tolgo da youtube perché non voglio che le persone di passaggio sul mio canale copiano i metodi quindi quando metto un metodo su youtube dopo poco lo rimuovo quindi se siete iscritti avete copiato il metodo sapete benissimo che stasera c'è entrato un altro bellissimo ambo secco andiamolo a vedere questo invece è la vincita dal metodo semplice 10.0 chi conosce semplice 10.0 sa che è un metodo come come da titolo un metodo semplicissimo non si devono fare calcoli né niente basta prendere solo gli estratti da determinate ruote e unirli insieme ok come vedete un altro bellissimo ambo secco 40 60 il cliente guardate un po cosa scrive per chi non crede ai miei metodi o chi crede a chi vedete scrive ogni mese non fallisce mai sempre vincente quindi un metodo soordinario che continua a sfornare vincite ogni mese questo non l'ho scritto io ai ragazzi questo è un cliente non faccio vedere la foto del cliente per la privacy se qualcuno me lo mi dà il consenso posso far vedere anche chi mi scrive logicamente questi messaggi su whatsapp ok bene cosa dirvi di più vi annuncio anche che sono aperte le prenotazioni per il mensi software di dicembre andiamo a vedere la bellissima copertina di questo mese del mensi software di dicembre ed eccolo qua il mensi software lotto per te di dicembre speriamo che il babbo natale nella copertina porti tanti bellissimi ambi secchi otteni secchi sotto l'albero nel mese di dicembre logicamente noi ci proviamo come sempre abbiamo spaccato ripeto alla grande con quello di novembre vedremo di far contenti tanti di voi anche con quello di dicembre e vi ricordo che io spero che babbo natale vi porti tanti ambi secchi e non ambetti l'ambo secco almeno con un euro sono due e trenta lambetto un euro sono 59 euro 60 euro mettiamo nel 60 rotandiamo quindi io spero che vi dia un regalo più grande che lambetto scherzetto ok ragazzi io con questo finito ci si se ci saranno aggiornamenti meno comunica ricordo che le quartine del drago hanno dato dei due ambi in quartino ma non li faccio nemmeno vedere perché sapete benissimo che io faccio vedere gli ambi secchi terni secchi ma gli ambi in quartina o gli ambetti eccetera non li faccio vedere ok bene buonasera da tutti e buone vincere sempre con rosario regale con previsione vincenti punto it